buongiorno a tutto il mondo e a tutto il mondo dei parrucchieri allora oggi ho postato una antica foto di un gruppo che si chiamava Estensore Group ma chi era Estensore Group? Estensore Group era un insieme di persone che si innamorò di un sistema di allungamento e infoltimento di capelli perché all'epoca è stato qualcosa di rivoluzionario perché il parrucchiere ha sempre tagliato i capelli per creare forme e stili e per la prima volta al mondo c'era l'opportunità di creare forme e stili allungando i capelli come la notte e il giorno avevamo inventato un qualche cosa di più quante volte le persone si alzano la mattina e disperate non si sanno vedere con questi capelli corti in poche ore uno riesce ad appagare il suo desiderio di avere i capelli lunghi perché dovete anche sapere che dietro allungamento dei capelli non è che c'è solamente la parte esteriore ma c'è un beneficio fortissimo nella parte interiore che cosa significa che quando una persona si allunga i capelli nasce determinazione e coraggio nei tre aspetti fondamentali della vita salute, sentimentale e autorealizzazione personale che non è poco perché lo strumento dell'estensione dei capelli diventa uno strumento di seduzione e forza fisica perché noi abbiamo uno spazio vitale che ma o meno in spagnol è un metro e che cosa serve? come gli animali quando qualcuno si avvicina nel nostro spazio vitale noi rizziamo i peli come il cane che rizza i peli acquistiamo volume nello spazio per mettere a disagio il nostro interlocutore che si è avvicinato troppo l'allungamento dei capelli raddoppia di due metri questo e ci dà molta più forza ci possiamo nascondere dietro i capelli per le persone che sono timide e ci sono tantissimi aneddoti quando io preparo un allungamento dei capelli a una persona c'è un'intervista conoscitiva per capire quella persona a che punto sta allora a distanza di tantissimi anni Estensore Group ha avuto un successo per vent'anni poi sicuramente io mi sono stancato volevo cambiare vita e ho cambiato e grande opportunità questi sette anni mi ha dato l'opportunità di sviluppare musicando PNL Felicità in Canaria e intonse questi corsi che io verrò a fare in Italia per i parrucchieri e per le generazioni nuove non è solamente la tecnica fine a se stessa perché potremo utilizzare le tessiture le fusioni qualsiasi tipo di ma la cosa molto importante è capire chi ci abbiamo davanti per fare un buon allungamento capelli per dare felicità a quella persona intonse io adesso da oggi comincerò un pochino a parlare solamente di estensioni di capelli perché mi sto preparando per i seminari di musicando PNL Felicità in Canaria e adesso arriva la parte quella più fantastica quella che è mia perché faccio allungamenti di capelli da 40 anni e adesso vado a fondere questa nuova filosofia di musicando con l'antica filosofia di estensione e creerò qualche cosa come fanno i cuori adesso non mi viene però andrò a creare un bellissimo cuore nuovo vale invito tutti le sensore group tutte le persone che ho avuto la grande opportunità di insegnare questa tecnica e al mio ritorno in Italia che sarà dal 16 al 30 il corso di due giorni seminario ancora devo decidere però sarà o di una domenica e di un lunedì verrà fatto a Pomezia poi vi darò più dettagli in questo e mi piacerebbe rincontrare tutte quelle persone che abbiamo condiviso il successo di estensioni group per creare una piccola festa vediamo così lo possiamo raccontare al mondo se abbiamo fatto tutti quanti insieme un qualche cosa da compartire con tutte le persone bene io vi ringrazio come tutte le mattine adesso sta diventando una tassa fissa ho questo quadrifoglio fantastico qua dietro a me e tengo una bella scenografia e con già il mio libro estensore dato che oggi ho da sforzarmi è vuoto è il corso extension creativa PNL che andrò a realizzare nel mese di settembre la data devo ancora trovarla quella giusta ma sarà una domenica e un lunedì e il prezzo ancora sta in attualizzazione non sono tanto caro ma come ho detto l'altra volta ma è meglio farsi un taglio economico di praticità o spendere un pochino di più e avere un taglio per essere felici lo stesso concetto è meglio avere un'estensione baratta per la praticità o diamogli un pochino di valore un po' di spessore che un'estensione di capelli ti può dare felicità in quello che fai o in quello che vorresti trionfare sono tre le cose salute sentimentale autorealizzazione personale per informazioni un po' più nel dettaglio mi potete scrivere a francescocallori gmail.com anche perché ho ancora tantissimi clienti in Italia chi vorrebbe realizzare un allungamento di capelli personalmente con me mi può contattare tranquillamente perché le estensioni sono migliorate un milione di più